Eh, allora andiamo a sparare a seguire E' un acceso uno Eh, stanno, stanno installando loro adesso Sì Prima di deciderla perchè abbiamo 50 palle sotto Eh, esatto Ma... L'avevo anche tutto il video, sai? Sì Ok Eh, sparata ancora Eh, sirena E' un bel passaggio? Eh, Fede prova a buttarti se vuoi Sì Ok, provo a tirargli una palla e l'ancora Sto andando, sto andando Eh Uno si è cannoneggiato Ci manca, penso No, è salita, è salita, è giù, vicino te Ok, punto l'ancora Vai un attimo, tira la sfuga, devo andare a secchiare Ah, mi hanno ucciso Li ho ancorati però Bene, bene, bene Vai Giorgio, mi tragliali Poi quando arriva Fede, vai pure te Sì Sì Ma è abbastanza calmo qui sotto Ok, puoi prendere canone Il canone vai canone Sparare ti anche se vuoi 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 Hmm, bravo No Sparare sto salvo, hai provato ad andare anche tra Ok Sto cercando di rimanere vivo Sì esatto, tu rimani vivo, basta Giorgio vai Mi hanno ucciso Mi hanno ucciso Lo fa sparare io fino a vostro Fondato, fondato Wolee mi ha distratti abbastanza sì, decisamente, bravo bene cazzo quanto c'è riuscita bene questa devo buttare un attimo l'ancora se non ci andiamo a fanculo si parte vengono questa moce vediamo davvero vediamo se arrivo vivo fino alla fine esatto sarà salibile bravo un po' di mosso, un po' di basso una sirena ok, non sta salendo elvato centrale l'ho fatto sganciare dai che ne hanno uno in mare e uno lì faccio sganciare un po' si trova ancora fede, si trova a finire l'uomo ok, sotto mi ha venuto un po' d'asta ok, sotto mi ha venuto un po' d'asta si trova a finire l'uomo si trova a finire l'uomo adesso come stai? c'è un po' di tiro? si trova a finire l'uomo si trova a finire l'uomo si trova un po' di balle ai cannoni, sparatevi si trova a finire l'uomo sono messi bene sotto, però hanno ucciso un altro che non c'è nessuno in nave sparate la manetta mi ha suonato uno al timone ok l'ho ucciso bello sono per affondare affondati ole c'è un bel gg e ritorno da voi e sono venuto un po' di scopo nice non ti pensa ma ne ho mangiato carne a manetta non devo mordire così a fare un'uomo e sti strozzi ops 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 non è che speriamo c'è il mio lavoro non sono so conti avrei un sacchio l'uomo vabbè comunque dopo che li ho maxati sono lasciate i nostri entretti ok quanto appena il giri mi chiede